C'è assolutamente d'accordo, ogni tanto quello che fa delle giornate un po' più complizenti è quando ci fa un po' più complizente, è quando ci fa un po' più complizente e quindi in questo caso più volte ci sapete qual è il passatore per quello che stiamo facendo, ora che ci sentiamo sul suo vantaggio è già arrivato alla gran prima della battaglia, quindi la soddisfazione e quindi in questo caso è un po' più complizente che c'è dietro in tutto l'attuệdo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.